Violenza sulle donne alla Spezia crescono i casi ma non le denunce un libro per sostenere il centro antiviolenza. Turismo stagione balneare da 3 milioni di presenze turistiche in Liguria spesa media di 44 euro al giorno per gli extra. La cultura della sicurezza attraverso racconti a fumetti l'ultima fatica letteraria di Pasquale Sgro. L'autobre post obbligatorio per commercianti artigiani e professionisti con fartigianato contenere i costi bancari. Martedì da Leoni ieri per lo Spezia che batte il Novara al picco con rete di Marilungo. Ottima prova di Di Gennaro. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TLS giornale. Un incidente oggi a mezzogiorno in Viale Italia visto coinvolti un'auto, uno scooter. Il conducente dello scooter è un uomo di 54 anni, MF, nella caduta ha sbattuto la testa e si è procurato una contusione alla gamba. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 con i militi della pubblica assistenza della Spezia e le forze dell'ordine. L'uomo è stato accompagnato in codice giallo dal personale sanitario dell'automedica 118 al pronto soccorso della Spezia. E un altro incidente sempre tra un'auto e uno scooter accaduto a mezzogiorno ma a Sarzana in piazza Terzi coinvolta una donna di 55 anni che ha riportato un trauma cranico, una ferita al volto e una sospetta frattura ad un braccio. Sul posto il 118 i militi della pubblica assistenza di Romito e i vigili urbani. La signora è stata accompagnata al pronto soccorso della Spezia per le cure del caso ma le sue condizioni sono buone. Dieci donne vittime di violenza ogni mese complessivamente, 180 nell'arco dell'ultimo anno e mezzo. Sono i dati allarmanti che erano stati diffusi dall'ASL numero 5. La sensazione però è che le denunce diminuiscono a fronte di episodi di violenza sempre più numerosi nella nostra provincia. Laura Ivani con l'immagine di Sergio Diofili. Non si dovrebbe mai finire di parlare di violenza contro le donne per denunciare. Purtroppo si tratta di fatti di cronaca di cui proprio in questi giorni continuiamo a parlare anche nella nostra provincia. Qual è la situazione? La situazione insomma in provincia è che comunque abbiamo un po' di casi che continuiamo a seguire anche e soprattutto grazie alle persone che collaborano nel lavoro con il nostro centro antiviolenza Irene che come ricordo è provinciale quindi comunque tocchiamo non solo il comune della Spezia ma comunque tutti i comuni e anche i comuni limitrofi ad esempio della Lunigiana. Ovviamente il problema della violenza è un problema che abbiamo notato che anche a livello nazionale sta riscontrando comunque varie problematiche e soprattutto stiamo notando veramente che è un problema che riguarda varie fasce d'età. Abbiamo visto quella povera ragazza che comunque ha dovuto pagare con la vita le violenze di un amore malato e aveva solo 16 anni e invece abbiamo visto come ieri è avvenuto un caso di una donna 50enne che è stata comunque violentata al lavoro. Sono purtroppo in aumento i casi? Diciamo che c'è una doppia forbice. L'aumento in realtà dei casi, meno denunce purtroppo, più paura a denunciare. Questa è una cosa che mi turma profondamente e poi tanta paura anche a riconoscere. Ecco il perché dei tre centri d'ascolto che ho aperto che stanno funzionando sottovoce perché va fatto questo servizio in estrema rispetto di chi subisce violenza e con le alleanze perché la nostra casa della violenza, diciamo, per la violenza è l'unica istituzionale di tutto il territorio Ligure per cui fortemente professionalizzata e riconosciuta da tutte le altre istituzioni. I comuni devono rivolgersi tutti costantemente a loro. al contrario di tante altre che sorgono in modo spontaneo, per carità benvengano, però hanno più una salita dal basso. Questa che è stata calata dall'alto e voluta fortemente in questa città, io credo che siccome è stata finora abbastanza professionale e abbastanza in linea con i dettami, deve essere incentivata. E questo pomeriggio in provincia è stato presentato un libro di poesie, parte del ricavato del quale sarà destinato al centro antiviolenza cui le donne spezzine possono rivolgersi. L'intervista di Laura Ivani con le immagini di Sergio Diofili. Moti dell'anima, questo è il titolo del suo libro, un libro che indaga l'emozione attraverso le parole. Sì, infatti, è proprio questo. Sono le emozioni, i sentimenti che come donna ho provato da quando ero giovanissima e ho avuto questo bisogno di scrivere queste sensazioni forti che sentivo. e attraverso le parole ho cercato di portare fuori di me quello che poi ho nell'anima, quello che tutte le donne noi abbiamo nell'anima. E proprio per questo ho anche legato questo libro proprio al centro antiviolenza delle donne di La Spezia. Ecco, perché un libro di poesie legato di fatto a un evento, a un dibattito sulla violenza contro le donne, che è un argomento davvero molto attuale purtroppo? Perché è proprio da lì che si parte, cioè si parte da quello che noi sentiamo, da quello che avvertiamo, da tutto quello che ci circonda. E lì dove, in quello che noi ci circonda, noi possiamo uscirne fuori in tanti modi. E attraverso le parole, la poesia, il portare fuori quello che noi abbiamo dentro di noi è un modo anche di liberarsi e di portare a conoscenza comunque del mondo il sentire che noi avvertiamo che abbiamo dentro di noi. Abbiamo pensato di cominciare con la prima manifestazione pubblica con un segnale di pace, un fiore, un'emozione, un pensiero. Non è che ci siamo fermati quest'estate perché la violenza purtroppo non va in vacanza. Abbiamo continuato a parlarne sotto voce e stiamo preparando anche cose più grosse come un convegno sulla sicurezza a misura dei donne. Però mi è sembrato una bella cosa iniziare con un segnale di amore, di affetto. Qui si chiede di impegnare il cuore, le emozioni, di vedere cosa dice l'anima. E pensiamo che sia il modo migliore per iniziare. Anche perché l'autrice, Graciela Maisano, che è dalla nostra provincia, anche se lavora qua a Spezia, che è una donna speciale, ha pensato di devolvere parte dell'incasso al centro Irene. La nostra casa contro la violenza alle donne. Oppure, diciamo, dove si dovrebbe rifugiare quella parte di cielo che viene violata. Toti impugni la legge Lorenzin sui vaccini dinanzi alla Corte Costituzionale. Lo chiede il Movimento 5 Stelle Liguria con una mozione a prima firma Gabriele Pisani depositata oggi in Regione. E lo stesso avviene in contemporanea in tutte le Regioni italiane in cui il Movimento 5 Stelle è rappresentato con un atto congiunto e condiviso, anche a livello parlamentare. Il gruppo PD in Regione Liguria dà la massima disponibilità a condividere la nascita di una commissione per l'osservazione del fenomeno mafioso in Liguria e per sostenere i processi di prevenzione in materia legislativa, formativa e amministrativa come proposto ieri dal Governatore Totti e dal Vicepresidente Viale su suggerimento del Senatore del Partito Democratico, Giuseppe Lumia. Ma sarebbe importante, dice una nota del PD, che la Giunta regionale facesse anche funzionare ciò che già esiste, come il Tavolo Ligure sulla legalità, si è riunito solo una volta, mentre l'Osservatorio sulla criminalità organizzata non si è mai costituito. In agosto sono state oltre 3 milioni le presenze turistiche registrate in Liguria che sommate a quelle dei mesi di giugno e luglio portano oltre a 7,6 milioni, il bilancio quasi definitivo della stagione balneare a livello regionale. Dati commentati con soddisfazione dall'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, su base regionale spicca la crescita dell'11,5% della città di Genova e dal 3,5% della provincia. Crescono anche le presenze nella provincia della Spezia, più 2,7%. Buoni anche i dati sull'indotto. Nel 2016 i turisti in Liguria spendono circa 12 euro in media al giorno per attività culturali, 21 euro in bar e ristoranti, 11 per souvenir. Torna anche quest'anno la nostra trasmissione di approfondimento, il salotto del signor Rossi, ancora condotta dal nostro Fausto Rossi. Prima puntata dedicata alle elezioni per il nuovo presidente della provincia e sulle difficoltà dell'ente di Via Veneto e andrà in onda venerdì alle 21.30. Si parlerà anche del nuovo sistema di raccolta differenziata con l'assessore della Spezia, Casati. Sentiamo Fausto Rossi. Fausto Rossi, dopo la pausa estiva, venerdì riparte la trasmissione del salotto del signor Rossi. Di che cosa si parlerà? Parliamo delle elezioni in provincia. Ora, non è che il tema sia di per sé tanto appassionante, ecco. Però questa provincia è votata alle elezioni, ha continue campagne elettorali. Ne abbiamo finita una che è poco per il comune della Spezia. Abbiamo questa che riguarda però i sindaci. Sì, e abbiamo già aperta quella per il comune di Sarzana. Insomma, gli argomenti, l'argomento sarà sindaci al voto riferito alla provincia, però gli argomenti spazieranno un po' su quello che è avvenuto nel capoluogo, un po' un sunto dell'attività svolta dall'amministrazione, ed ha anche qualche retroscena sulle candidature che si profilano per il rinnovo del Consiglio Comunale di Sarzana. Venerdì sera gli ospiti saranno Gian Pedrone, l'assessore regionale, la segretaria provinciale del PD La Pecunia, ci sarà Francesco Battistini e Maria Grazia Fria. Inizio quindi dedicato alla politica, ma durante l'anno si parlerà anche di altro? Certamente. La politica ovviamente è una cosa importante, anche l'amministrazione, però daremo spazio nelle future puntate anche a temi di attualità e di costume, legati anche alla cultura. Quindi cercheremo di spaziare su tutti i fronti, cercheremo ovviamente di affrontare i vari temi, ma sempre con filo comune, temi che ci vengono prospettati dalla cronaca del momento. Cercheremo di affrontarli quando queste cose vengono in evidenza. Convocato a Palazzo Civico per martedì 26 settembre alle 20.30, il Consiglio Comunale che avrà come oggetto l'approvazione delle linee programmatiche del Sindaco Peracchini per il mandato 2017-2022. E il Sindaco ha incontrato l'Associazione Libera di Quartiere per la rinascita di Pagliari. Durante l'incontro il primo cittadino e la delegazione si sono confrontati sui progetti che la nuova amministrazione sta studiando al fine di risolvere le annose problematiche del quartiere. Siamo all'inizio del nostro mandato, ma nella nostra ottica c'è sempre la volontà di tenere aperte le porte all'ascolto dei cittadini. Ha detto il Sindaco, le periferie devono tornare al centro dell'attenzione in materia non solo di sicurezza, ma anche di decoro e pulizia urbana. Da oltre 30 anni si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ora Pasquale Sgro ha trovato il modo di divulgare la cultura della sicurezza anche attraverso racconti e fumetti come una delle sue fatiche, l'ispettore Felicino. Domani è la volta del suo nuovo romanzo, un romanzo giallo che sarà presentato venerdì sera alle 18 presso il Porto Lotti, il titolo Corpo morto a Paratia. Per saperne di più vediamo il nostro servizio. Un premio vinto, il giallo da amare, e una prima esperienza. Il premio è un premio diciamo all'esordiente scrittore Pasquale Sgro. È un premio che lì per lì mi ha un po' fatto sorridere vista la mia età, però allo stesso tempo è un premio anche importante perché insieme a me hanno premiato anche Massimo Carlotto che è nel campo della giallistica io penso il numero uno in Italia. Ecco, questo libro sarà presentato venerdì prossimo a Porto Lotti, un'occasione importante per farsi conoscere come esordiente. Certamente. Spezia, io abito in Toscana, ma Spezia è una città di adozione. Ho due uffici a Spezia, due studi, perché io mi occupo di sicurezza nel mondo del lavoro e in questa occasione voglio presentare Pasquale Sgro, scrittore. Lei ha scritto anche sul piano della sicurezza alcuni libri. Certo, ma il progetto dell'ispettore Felicino, che è poi il personaggio del mio romanzo, che si chiama Corpo Morto a Paratia, è un progetto che nasce proprio per semplificare, aiutare la conoscenza della sicurezza, non soltanto nel mondo del lavoro. Un progetto che nasce, diciamo, per la formazione, per agevolare la formazione. Tanto è vero che le storie sono storie brevi, semplici e poi a fumetti. Ecco, un libro che ha ottenuto anche due applausi particolari. Quando io, diciamo, mi è venuta l'idea di questo progetto, per la verità ho scritto a tanti enti, ma non mi ha risposto nessuno. Dopo una settimana ricevo la risposta di Papa Francesco e dopo dieci giorni di Giorgio Napolitano. Ho percepito, ho capito che la sicurezza sul lavoro a queste due persone sicuramente sta molto a cuore. Questo ispettore Felicino, frutto della sua fantasia, ha un ruolo anche in questo libro? Sì, l'ispettore Felicino è un ispettore del lavoro. Il primo caso, diciamo, nella narrativa mondiale, da quello che so io, dove un ispettore del lavoro fa delle indagini. Quindi vi invito a venire e vi invito anche a leggere questo giallo e a darmi eventualmente delle indicazioni, dei suggerimenti, visto che sono un principiante. Otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Ferretti per lunedì 9 ottobre. Lo hanno proclamato le singole sindacali a seguito dell'incontro con la direzione, dove sono state date risposte ritenute non sufficienti e date rispetto alla piattaforma presentata per il rinnovo dell'accordo aziendale. Verranno inoltre convocate assemblee in tutti gli stabilimenti per discutere e informare i lavoratori. Dopo la firma avvenuta ieri tra Comune di Santo Stefano e Centro Italiano di Eccellenza sulla logistica integrata per la riorganizzazione delle aree retroportuali, CNA, FITA e Confartigianato Trasporti si domandano come mai le associazioni di categorie rappresentative dell'autotrasporto non siano state informate né invitate, nonostante attendessero da oltre un anno una convocazione da parte del sindaco Paolo Assisti per confrontarsi sul tema. Il presidente Alessandro si unisce all'appello rivolto dalle associazioni ambientaliste della regione Liguria perché non dia corso all'iniziativa di cancellare il parco di Monte Marcello Magra. Non soltanto c'è la necessità di preservare la qualità assolutamente peculiare di quel territorio con gli strumenti tipici del parco ma ci sarebbe piuttosto l'urgenza di incoraggiarne il rafforzamento e la fruizione intelligente ha detto il presidente Vittorio Alessandro. The Coming Year è il titolo del volume presentato nella sala consigliare del Comune di Beverino realizzato da Silvia Paternostro sociologa e ricercatrice applicata tratta il tema del dissesto idrogeologico in Italia e soprattutto in Liguria con un occhio di riguardo sulla percezione del rischio da parte delle popolazioni. Vediamo il servizio di Daniela Rabuazzo. Siccome quello che regola il clima in ogni luogo è l'assetto vegetazionale e quando si vuole cambiare il clima in un luogo si cambia la vegetazione noi l'abbiamo cambiata pesantemente per una serie di motivi e quindi per ripristinare la fascia climatica corretta noi dobbiamo, è necessario, seguire quello che dice la natura cioè semplicemente riforestare correttamente le nostre montagne. Questo che dicono gli esperti ed in fondo è la verità. Le troppe calamità naturali a cui in questi ultimi anni ci siamo abituati a vivere impotenti è per colpa della mano umana che ha modificato la natura costruendo dove non si sarebbe dovuto costruire modificando i corsi dei fiumi e tombando i piccoli torrenti togliendo in definitiva gli spazi al polmone verde del pianeta. Ci fosse stata maggior consapevolezza dei rischi numerose disgrazie si sarebbero potute evitare. E ora tra le popolazioni la percezione del rischio del disesto idrogeologico varia da località a località. Questo tema è stato sviluppato nella giornata di ieri presso la sala consigliare del comune di Beverino con la presentazione del volume dal titolo Camin Iar. All'interno sono stati presi in considerazione 11 eventi calamitosi dal 2000 al 2015. Il focus è partito appunto sulle alluvioni principalmente con ovviamente rilevazioni anche sulle frane quindi con fenomeni di dissesto molto forte. Analizziamo non solo il rischio della sicurezza percepito dalla popolazione e dagli abitanti ma anche le analisi dei bisogni. Il Piper, realizzato da Silvia Paternosto responsabile del laboratorio di sociologia Hansel Liguria ha visto la fattiva collaborazione dell'Università La Sapienza di Roma e di quella di Napoli e il centro di studi della scienza sempre della città partenopea. Approfonditi soprattutto i rischi e la percezione nella nostra regione, la Liguria. La necessità di piani regolatori da parte della popolazione e soprattutto di informazioni preventive anche assistenza post calamità quindi non esiste un counselor per eventi traumatici legati alla psiche appunto di chi ha subito l'evento e anche dei piani assicurativi appropriati post calamità. Dal mese di ottobre ci sarà l'obbligo per i commercianti, artigiani e professionisti di possedere il POS il dispositivo elettronico per i pagamenti con il Bancomat. La Liguria e la Spezia non sono all'anno zero spiega Paolo Figoli presidente di Confartigianato della Spezia chi lavora con i turisti e stranieri infatti si è dotato di POS da anni. Ciò che preoccupa le piccole imprese sono i costi bancari necessario fare un appello al sistema bancario per contenere alcuni costi che grazie alla norma ricadrebbero sull'esercente. Sarzana è passata dal rafforzamento degli sportelli online per far fronte alle nuove e accresciute esigenze dei cittadini la riorganizzazione dei servizi demografici a partire dallo scorso 6 settembre il servizio di certificazione online è stato esteso anche a tutti gli avvocati che potranno stampare alcune certificazioni ufficiali di cui il professionista potranno avvalersi anche per la propria attività. Con queste nuove opportunità spiegano il sindaco Alessio Cavarre l'assessore ai servizi demografici Daniele Castagna l'amministrazione è in grado di ridurre i costi grazie alla dematerializzazione dei documenti garantendo un rapporto più efficiente ed efficace con l'utenza. dal 22 al 24 settembre si terrà a Sarzana la seconda edizione del Festival della Fisarmonica Umberto Allodi città di Sarzana tre serate nel Palazzo Comunale con l'esibizione di importanti musicisti e l'esibizione di alcuni pezzi di questo affascinante strumento musicale Italo Lunghi Prende avvio venerdì prossimo 22 settembre la seconda edizione del Festival della Fisarmonica a Sarzana presso l'atrio del Palazzo Civico tre serate davvero interessanti per gli appassionati e non solo ad ingresso libero. Il 22, 23 e 24 settembre con inizio alle 20 e 45 nella sede del Comune di Sarzana avremo il secondo Festival della Fisarmonica città di Sarzana il Festival è molto importante quest'anno la seconda edizione si amplia enormemente come numeri partecipanti avrà anche una piccola esposizione di produttori di Fisarmonica noi teniamo moltissimo questo Festival che è ancora nelle fasi iniziali ma che potrà portare delle grandi soddisfazioni alla nostra città oggi e in futuro è un Festival di altissima qualità è un Festival che già l'anno scorso ha riscosso un successo di pubblico straordinario un programma davvero intenso con musicisti di primo ordine nelle tre serate ci sono 17 musicisti che si esibiranno con due concerti per sera si parte con Corrado Medioli che è uno dei più importanti fisiarmonicisti dei padri del folk emiliano la seconda parte è presente una fisiorchestra di Reggio Emilia che è diretta da Lorenzo Monari che è un fisiarmonicista che è arrivato nel 1996 sterzo alla Coppa Mondiale di Fisarmonica con cinque fisiarmoniche e un fiato, un clarinetto sabato 23 dalle 20.45 i due concerti più virtuosistici perché abbiamo due presenze internazionali il primo concerto sarà eseguito da un campione del mondo del 2000 Gianluca Campi che è stato definito da Volmer Beltrami il paganino della fisiarmonica il secondo concerto abbiamo proprio un tocco internazionale alla manifestazione con Eugenia Cercassova che è una fisiarmonicista nota penso in tutto il mondo la terza serata vede aprire con un primo concerto un vice campione del mondo un ragazzo di 34 anni che dal sud Italia si è trasferito da qualche anno nella nostra provincia vice campione del mondo nel 2012 e il secondo concerto un quartetto locale di tango jazz i Tangedia Project che con un fisiarmonicista molto importante che è stato più di 20 anni con la famosa orchestra di Raul Casadei ha portato il folk italiano in tutto il mondo in questo caso suonerà invece le musiche di Piazzolla e di Gagliano una serie di concerti dedicati ad un illustre interprete della fisarmonica Umberto Allodi Missionari, religiosi e laici la solidarietà del Levante Ligure è il titolo dell'incontro previsto per domani al Museo Dio Cesano della Spezia in via Prione a partire dalle ore 17 interverrà tra gli altri Don Giovanni Tassano direttore del centro missionario Dio Cesano Dopo il successo con un tutto esaurito della prima proiezione prosegue domani alle 17 la rassegna cinematografica Un secolo al cinema cinque capolavori da riscoprire e domani alle 17 nella sala proiezioni della Mediateca regionale sarà la volta di una serie di carton degli anni 30 e a seguire la proiezione del film Il Circo di Charlie Chaplin e al via anche le proiezioni della stagione 2017 2018 al Cinema Italia di Sarzana il primo film in programma in prima visione assoluta è L'equilibrio di Vincenzo Marra Don Giuseppe parroco a Roma chiede di essere trasferito nella sua terra d'origine la Campania e la sua richiesta viene accolta prenderà il posto di Don Antonio che sovrintende la parrocchia di un paesino del Napoletano nella terra dei Fuochi la proiezione inizieranno da domani sera alle ore 21 e 15 e sempre domani 21 settembre alle ore 21 riaprirà il Circolo Fotografico la Torre di Arcola durante la serata di inaugurazione del nuovo anno fotografico verranno presentate al pubblico le attività che il Circolo intende proporre tra le attività previste ci saranno inoltre serate con autori noti e di approfondimento sulla tecnica e composizione fotografica intervallate da uscite di gruppo per scattare foto in compagnia il premio Tatiana Pavlova edizione speciale 2017 si svolgerà quest'anno per la prima volta al Teatro Carlo Felice di Genova nell'ambito delle giornate di Mosca organizzate dal Comune di Genova dalla Regione Liguria e dal Teatro Carlo Felice e dalla GOG la Giovine Orchestra Genovese il riconoscimento verrà consegnato dal Presidente del Premio Vinicio Ceccarini venerdì sera dopo il concerto al Maestro Vladimir Spivakov uno dei più grandi violinisti e direttori d'orchestra del mondo alla presenza oltre che delle autorità genovesi anche di Sergei Ceriomin Ministro del Governo di Mosca e questo sabato sarà girato a Porto Venere un videoclip musicale del brano Palabras d'Amor protagonista l'insegnante di Zumba Ilari Zin che insieme a tante altre colleghe istruttive autrici e amanti della Zumba gireranno le scene in alcuni ruochi ritenuti interessanti per la realizzazione del video un progetto che darà visibilità internazionale a Porto Venere tantissimi i runners si sono dati appuntamento domenica scorsa per l'edizione numero 7 del Trail Golfo dei Poetici 5 Terre sui percorsi lungo i sentieri del territorio UNESCO in servizio di Selene Rico successo per la settima edizione del Trail Golfo dei Poetici 5 Terre che si è svolta domenica scorsa sui sentieri del Golfo una manifestazione che come ogni anno è capace di attirare un gran numero di appassionati della corsa in natura provenienti sia dall'Italia che dall'estero in una ventosa e fresca giornata di settembre ideale per correre i runners si sono distribuiti su due percorsi il Trail di 20 km e uno più lungo di quasi 44 tutti soddisfatti i partecipanti il cui sorriso all'arrivo è stato il regalo più bello agli organizzatori la società Golfo dei Poeti Arcigni la più numerosa tra le società podistiche spezzine nell'ambito della manifestazione si è svolta anche la seconda edizione della non competitiva Eleven Evolution Sport che dalla stessa partenza e attraverso lo stesso percorso ha portato i partecipanti fino a Porto Venere alla manifestazione hanno partecipato anche due assessori del comune della Spezia Paolo Asti e Lorenzo Brogi che hanno così potuto toccare con mano le necessità organizzative di questa manifestazione promettendo un'ancora maggiore collaborazione futura al termine dell'evento la società Golfo dei Poeti ha effettuato una donazione materiale di cibo e alimenti agli empori della solidarietà della Spezia e Sarzana gestiti dalla Caritas di Ocesana confermando così ancora una volta l'impegno nel sociale che gli arcigni portano avanti sin dalla loro costituzione e per lo sport parliamo di calcio andiamo subito a vedere i risultati della classifica della quinta giornata del campionato di calcio di serie B Avellino Venezia 1 a 1 Ascoli Frosinone 0 a 1 Bari Cremonese 1 a 0 Carpi Foggia 1 a 3 Cittadella Cesena 4 a 0 Palermo Perugia 1 a 0 Parma Empoli 1 a 2 Pescara Virtus Sentella 2 a 2 Provercelli Salernitana 1 a 1 Spezia Novara 1 a 0 Ternana Brescia è stata sospesa per pioggia Alla luce Alla luce di questi risultati vediamo insieme la classifica che vede in testa il Frosinone con 13 punti segue Empoli a 11 Perugia Carpi a 9 punti Palermo 9 Perugia Carpi a 10 punti Palermo 9 punti Cittadella Cremonese Venezia Avellino e Spezia 7 punti Seguono Pescara Bari Novara Parma 6 punti Brescia Ternana Entella Foggia 5 punti Salernitana e Cesena 4 punti Ascoli 3 punti Provercelli 2 punti E grazie a una rete di Mari Lungo al dodicesimo minuto del primo tempo lo Spezia ha battuto il Novara con un punteggio di 1 a 0 un punteggio rimasto in bilico fino al termine sul cui esito ha inciso l'ottima prova del portiere Aquilotto di Gennaro autore di almeno 5 interventi determinanti di cui 3 nell'arco di pochi secondi ma sentiamo le interviste di fine gara raccolte da Gianluca Tinfena con le immagini di Sergio Diocchi Una partita equilibrata decisa alla fine dagli episodi lo Spezia vince perché riesce a capitalizzare gli episodi a proprio favore d'accordo? È stata una partita l'inizio lo Spezia ha spinto ha trovato il gol su una pallina attiva poi penso che Novara è sempre stato in controllo della gara sia nella mezz'ora del primo tempo sia praticamente in tutto il secondo tempo dove loro sono ripartiti in maniera sporadica rimane ramarico secondo me che questa prestazione meritava sicuramente un risultato diverso Un suo giudizio sullo Spezia? È una squadra che ha qualità ha giocatori rappresentativi per la categoria ha giovani molto interessanti e lo Spezia per me può recitare comunque una parte importante in questo campionato Il suo collega ha detto Eugenio Corini lo Spezia è partito forse meglio di noi nel primo tempo nella ripresa abbiamo creato molto meritavamo almeno almeno il pareggio concorda? Sicuramente nel primo tempo fossimo stati più tranquilli nella gestione della palla avremmo fatto sicuramente più gol perché la qualità del gioco è stata sicuramente superiore alla nostra nel secondo tempo abbiamo fatto 20 minuti l'inizio della ripresa dove non mi sono piaciuti dove la mia squadra non mi è piaciuta per niente e dove il Novara ha avuto quell'occasione triplice nella stessa azione di poter pareggiare dopodiché che almeno il pareggio quindi insinuando magari qualcosa di più mi sembra un pochettino eccessivo però Eugenio è un amico è giusto che lui lavori e difenda il suo lavoro però ritengo che questa vittoria sia meritata perché è frutto di grande sacrificio e grande qualità sette punti in tre gare se l'aspettava dopo un avvio così così io mi aspettavo la crescita di questa squadra poi dopo i punti sono conseguenza del lavoro arriveranno momenti magari dove non faremo punti però la consapevolezza che questa squadra deve avere che sta piano piano facendo su è quella che con il lavoro si possono ottenere dei risultati tre parate una dietro l'altra per suggellare questa vittoria importante più difficile la prima la seconda o la terza parata nel giro di dieci secondi non lo so qual è la più difficile però erano tutte importanti e ho fatto di tutto per non prendere gol come tutta la squadra ha fatto perché ci siamo difesi bene e abbiamo portato a casa qualcosa di importante e prima di chiudere vediamo insieme lo scenario meteorologico di domani che è dominato dall'anticiclone che ci regala un'altra giornata serena solo in serata i venti di Libeccio porteranno qualche addensamento sulle coste e sulla costa al mattino sereno al pomeriggio soleggiato l'ubidità sui valori medi i venti deboli da sud-ovest o di direzione variabile il mare sarà poco mosso le temperature oscilleranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 22 gradi è tutto per questa edizione del TLS giornale a tutti auguro un buon proseguimento di serata arrivederci a presto a presto a presto Grazie a tutti.